Tra qualche giorno saremo tutti al completo, da domani avremo semenzato con noi, che diceva parte del gruppo nazionale italiana che era Mosco per la finale di Port League, mentre Savani e Mastrangelo svolgeranno queste settimane solamente un lavoro fisico e cominceranno a lavorare tecnicamente da martedì. Ovviamente abbiamo bisogno di un po' di tempo per riconoscerci, per raffietarci, il campionato è alle porte, si potrebbe sofferire con entusiasmo a quei meccanismi tecnici che adesso è possibile richiedere la scelta.